Ferite e botte su tutto il corpo, era arrivata così in pronto soccorso. La violenza tra le mura domestiche esplode durante l'emergenza coronavirus. La vittima è una donna dell'alta padovana di 51 anni che si è presentata sanguinante all'ospedale di Campo San Piero. I medici, insospettiti dalle lesioni difficilmente riconducibili ad un incidente domestico, hanno alertato i carabinieri. La donna però si rifiutava di ammettere le percosse. I carabinieri hanno avviato così un'indagine e hanno scoperto che a massacrare di botte la 51enne era stato il marito convivente che aveva picchiato la moglie durante un litigio perché il 24 aprile la donna aveva necessità di uscire. Il marito aveva aggredito la compagna colpendola ripetutamente con schiaffi e pugni oltre a stratonarla fino a quando, marridotta e dolorante, è stata costretta a farsi visitare. Il 64enne è stato denunciato.